Oggi sappiamo che prevenire della demenza o meglio ritardarne la comparsa nella popolazione anziana si può attraverso una serie di attività. Una di queste attività è la stimolazione cognitiva che può essere condotta anche attraverso giochi che migliorano anche l'interazione sociale e le attività che possono appunto entrare nella prevenzione. Per cui la promozione di questi interventi che rientrano anche in una promozione di corretti stili di vita quali per esempio fare attività fisica, allenare il cervello, avere comunque uno stile di vita sano aiutano a rallentare l'evoluzione della demenza.